Un saluto a tutti e bentornati su GDR Land. Continuiamo la nostra avventura in Divinity Original Sim. L'ultima volta ci eravamo lasciati dopo aver rebundato in madre e... sì, in mare, per perlo. C'era una vongola gigante, una cucchia gigante, che voleva, a quanto pare, ultramillenaria, che voleva tornare a casa, diciamo. Noi siamo stati gentili e l'abbiamo accontentato, e lui ci ha ricompensato con dei punti esperienza e uno scrigno che abbiamo già depredato. Quindi. Qui noi abbiamo esplorato tutto, perché da qui siamo sbarcati. Quindi possiamo tornarcene... no. Ok, possiamo proseguire verso Psyseal. Allora, perché qui non c'era più niente. Ok. Altre conchiglie... Niente. Qui abbiamo... Ci sono ancora i resti delle nostre prime vittime. Così si possono chiamare, visto che sono scheletri evocati. Allora, qui... Ok. Ci sono due... due soldati. No, qui niente. Vabbè. Eh, eh, qui cosa c'è? E come Wasteland 2 insegna... Serve un badile. Serve un badile. Intanto qui troviamo... Un badile. Un paletto, frecce... Peccato che non ho ancora... Ar... C'è arcieri. Quindi niente. Intanto attiviamo il portale, il santuario. E... E semplicemente il viaggio rapido. E adesso scaviamo. Perché ho il raid tool... Per... Scavare. Un gavettone. Ah, qui però si continua. Aspettate. Rami, rami, rami... Niente. Ok. Sì, abbiamo finito. Sono un po' altici. Sono un po' altici. Eh, tu chi saresti? Sì, siamo legionari, ovviamente. Ah, sì, voi. Ah, sì, voi. Più che risp... Ah, ha ruttato. Liberatori di liquor, anche, non ci siamo? Esatto. Sì, rispondi. Sì, quindi siete dei liberatori, avete detto? Sì, è una nobile vera per un guardia guardia, e questo è quello che facciamo. Guardare i cagli locali che, sempre così spesso, aspettano l'occhio di un'altra e separarli per mantenere la pazza. Separare dalla coda, è quello che è. La prima forma di calmerci un caglioso è di nutrirlo. Ha! Spare per la coda, è il motto di legione. Poi mettere il sacco in là, voi figliosi! Non ho mai avuto la coda. Stoce a guardare per le ore e le ore e le ore, bambini, bambini. Bambini è un amico demonio, e Booz è il amico demonio. Ma sì? Ma sì? Vabbè, prima vorrei farvi qualche domanda. Che vuoi sapere? Esatto, eh, cominciamo. A riguardo a Jake. Oh, è Jake che stai cercando? Il船 ha avvicinato sull'altro, sono sicuro. Il bello è morto? Mortato. Sai qualcosa riguardo del suo omicidio? Non posso dire molto più, ma che il Herney fu fuori in una panna di sangue, che è stato usato come un fonte di acqua, per il suo suo amico mongrel. Ah, ma... Dicono che era la sua esposa che lo ha fatto, e io credo che una bottola di brandy è vero. Un dolore di freddo, questo. Dicono che sia un altro, come se non ci provi a fare nulla. Scusate la sua città, dove il tuo figlio è. Un po' di barbarico, un po' di loro. Ora, uccidere i tuoi figli e uccidere i tuoi figli. Abbiamo avuto una combina contro loro, per sicuro. ma hanno la fortuna di un uccio in ogni singola di loro. Prego un'armi per trattare un pochino. Beh, abbiamo portato una legione. Allora tu vivi dove sei? Soysiel, sì. Onde i pescari vengono a vivere e i cittadini vengono a morire. Ora, quali due sarei tu? Allora tu vivi dove sei? Allora, se fosse la città di Sysiel che hai cercato, sei in la direzione giusta. Allora, la maggiori persone stanno cercando di escapare invece di arrivare a arrivare il paese di questi giorni. Non è che io li potremmo. Questo paese è scurso, ti chiedo. Allora i morti riusciano da loro pezzi, e poi le tanti tribali e orti suonano i trombetti di guerra. o... le tanti tribali. Allora... Siamo qui in veste ufficiale. Ecco i nostri ordini. E ora dovremmo verificare la città? Non possiamo leggere, mio amico. E se non lo sai, quei paperi dicono che sei un parretto polimorfo sul risultato per una città di due città, che non provano una cosa. Sai cosa? Vabbè... Indicami la strada. Il wizard, ti chiede? Sui buono per me. Lasciami. Ah, ok. Stiamo parlando... Stiamo parlando. Un wizard è preso a sapere più cosa sta succedendo qui. Capitano, venite. non stiamo a farlo dalla città. Dimenticati a scrivere in letto. Ho un punto abilità... Non usa... Eh? Ah, siamo saliti ora! Ottimo! E allora... Io qui direi... Beh, qui intanto... Io andrei di costituzione. Io andrei di costituzione. Io andrei di costituzione. Mi puoi usare... Sshhh... Se gli orcs si fermano... Io vorrei per farlo... E non ho bisogno di affrontare ma... Ma non ho bisogno di guardare... Tu ti senti ancora... La prima cosa... Mi fa? Mi guardare! Mi senti ancora... Mi senti ancora... Non mi dimentichi... Non mi dimentichi... E tu hai bisogno di... Non mi sembra... Se tu hai bisogno di eserciare... Perfetto! mia amica a scarlet invece vedrei velocità e vediamo a fare i loschi ma io me lo tengo perché vorrei vorrei scassinamento intanto però abbiamo trovato delle ricette per il crafting una lancia lavorata a mano frecce ok cibo qui abbiamo tante cose ok combinando due rami che tra l'altro ho visto qua adesso voglio voglio vedere combinando due rami cosa c'è un ramo grande vediamo crea a ok devo aumentare la l'abilità in manifattura chissà che cavolo da ok ragazzi andiamo allora ma prima voglio vedere qui se ve la faria che se faremo qui c'è il lactarius indigo che è una merda che succede e qui stanno combattendo e i bibius e e junius jaius ah devo fare il giro martello pomodoro piglia qui intanto salva perché adesso c'è una spada corta 18 25 aspettate e invece la mia ovvero quella di potrei provare a far così sì ehi oh oh va bene oh no il culturista nero ci ha preso di mira ah cazzo questi che falle bravo portati a portata che adesso ti castichiamo per bene ah il culturista qua allora intanto cazzo però il culturista resiste vabbè scarlet vai sull'oro bravo e a sto punto mmm toh che l'arcere cazzo ce n'è un altro però se la prendono con i legionari bravi 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 ma cavolo l'ultimo gol ok ahia ottimo allora tocca a noi allora il culturista qua il culturista eh ma io non ho qualcosa a tirare c'è un po' così ovviamente la non ho colpito per bene il bersaglio ma aveva avvelenato anche scarlet via facciamo così eh scarlet fa una cosa beh no ce ne siamo andati ah bravo arriva nel litu bravo vai 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 ma quella adesso crepa tra poco ok lo so lo so ma non morirai ovviamente potrei far così perché vorrei curarla ma pergamene non ne ho io questo me ne vuole due ok ma io potrei far tipo ma dov'è il ma è morto il il bago allora possiamo farlo così sì dovrei diciamo che dovrei anche curare me stesso mamma mia allora sono un imbecille va bene per fortuna posso usare questa eh no e adesso uso camminare fra le opra sì che però non ha funzionato perché qua dice l'80% di probabilità vabbè guarda là posso vedere ah ah sì ok allora questo se la prende con ah arriva il legionario grazie grazie non ho male ok oh è questo oh ma no sono morto eh guarda lo devo vediamo bene oh 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 Non lo so, speriamo Mancato Ok, forse me la cavo Ricordo che legionari Magari appunto se la prendono tutti con lui Allora intanto, prima cosa, ci curiamo Mi sento già meglio Ho bisogno di questo Un viper nel tuo giro E aspettiamo Oddio, non uccidetelo Grazie Dai, un altro colpo Probabilmente morirà per il veleno Ho bisogno di un arciere Subisco Ecco, io Allora, questo adesso muore Io aspetto Ok Questo adesso se si muove Ok, se ne va Madonna Io continuo ad aspettare Aspettiamo e aspettiamo Ecco Ecco Quegli orchi erano comandati da un umano Hanno detto Ah, queste sono le navi degli orchi E' una nave La pazza Ok, allora direi che adesso è ora di fare shopping Ho bisogno di questo Ceppo Conete d'oro Carne cruda E tra poco mi curo Qui c'è un altro ceppo Allora Ho vecchio scudo di legno Questo potrebbe essere interessante per luce Qui dopo farò ordine Perchè? Perchè? Sì 4% di parata Quello che ho 6 Mi toglie un po' di più movimento No, 0-2 Sì, un po' Più di movimento Ma io direi che questo lo possiamo Tenere Passate Una molotov Allora, quando ho ripulito Il campo di battaglia Staggerò un attimo Distr ficarò energie Anzi, provoca Foto Proverò anche a craftare qualcosa. Vediamo se riesco. Scasca? Scarpe? Monete? Nove contro sette, immediatamente. Sempre meglio di niente. Allora, qui c'è un altro orco con Chiliob. Qui c'è un legionario. Ok. Siamo arrivati a 6 Seerl. Rettifico. Faccio dopo il ordine. A sto punto finisco l'episodio. Ok. Tanto voglio vedere cosa vende. È Aru, comunque, il nostro contatto. Vende un po' di cose. Libri delle abilità. Sì, sì, dopo approfondiremo. Ah, ma vedo che abbiamo sofferto un altro orco. E, a giudicare la felicità relativa con cui l'episodio è stato disposto, posso solo arrivare a una conclusione. I sforzi giocatori sono arrivati a Saisio. Sei così benvenuto come una glassa di sceglia di sceglia su un giorno caldo, mio amico. Sì, sono Aru, a vostro servizio. Sono io che ho chiesto la tua presenza in questa città. Sono stato convocato qui da... un gatto. Sì. 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 Mi sono detto che lo sceglia è un obbligato. E quindi, ora che il cotto è fuori dal bagno, mangiavole non so che la terza dell'ombocatore Jake. È difficile usare systemic. Allora sì, prima di tutto dov'è questa scena del crimine? Sì, è stato assassinato un consigliere, quindi immagino ci siano dei sospetti su qualcuno. So there are, or rather, there is. Popular opinion has it, his wife did the deed, but to be frank, I have my doubts. She seems a likely candidate, to be sure, but that would make her a sorceress. Asmeralda knows how to charm, yes, but I just don't see her magic extend beyond a frolicsome look and wink. Still, don't simply take my word for it, Hunter. It may be well worth your while to cross-examine her yourself. The Legion has her under guard in her shop near the town square. That's where you'll find poor Jake's widow. Allora, quindi Esmeralda, che è la moglie di Jake, è tra i sospettati. E tra l'altro c'erano anche i due legionari brilli che dicevano appunto la stessa cosa, quindi evidentemente... Cosa è che sto uomo? Sì, diciamo che appunto è... Cioè, è già la seconda volta che si sentono uominiare Esmeralda, quindi... Dovremmo indagare. Comunque vorrei discutere di qualcos'altro. Sì, eh... Da quello che ho visto e sentito, questa non è la prima volta che avete avuto problemi con i prodoni orchi, giusto? Sì, è vero. Certo, è interessante il fatto che a capo degli orchi di cui parliamo ci fosse un umano. Un umano, tu dici? Veramente? Ma questo sarebbe come un uomo che guidare un uomo. E ancora... Ho sentito rumori su una secta di tipo, un sette di sospettatori che si associano anche con orchi. Alcuni dicono che sono sospettatori, ma le persone dicono questo per qualcuno che si comporta un po' strano in dei nostri giorni. Non so molto cosa fare di questa notte, ma grazie per informarmi. Esattamente, che problema avete con i non morti? Ah, i non morti. Come se tutto il resto non fosse abbastanza. E per due anni, la stalemate tra loro e i vivi ha stato spettato a un po' strano in 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 un po' strano. Ok, parliamo di più, anzi, dimmi di più su questo tuo trucchetto del gatto. Oh, ma questo non è un trucco, è una benedizione. O ti sorprende che mi piace prendere un... ...feline guise? Such magic is a gift hunter. To tread upon the realm of instinct. Even articulate speech, perhaps humanity's greatest asset, cannot give expression to something so inextricably innate. To be out in the night, to stalk on silent paws and hunt with only the moon as your witness, you couldn't possibly imagine the thrill. But of course, it's handy to speak in more than meows. and I couldn't brew potions or make machines without opposable thumbs. This I freely admit. Let's just say I have found a way to enjoy the best of two worlds. I'm glad we've met Sauce Hunter. And I'm certain we have a lot more to talk about. Feel free to visit me whenever you want. I've set up a workshop in the Legion's headquarters. Once you're there, just take the stairs. But do pay a visit to Aureus first. He may bark like a beagle with its tail stuck in the door, but you won't get very far in your investigation without speaking to the de facto leader of Cycene. And with that, I bid you adieu, Hunter. Adieu and good luck. May your enemies prove to be mere mice and you, the dauntless mouser. Thank you, Aureus. Undead. Orcs. Looks like we have our work cut out for us. At least we won't be bored. How about we go see that Aureus chap that Ahu mentioned? The place is a lot of work. Sì, avremmo un bel da fare a Cyseal. Cavola. Non ho un bel po' di rock. Comunque siamo a 30 minuti passati, quindi direi che possiamo fermarci qui. Siamo arrivati a Cyseal. e il prossimo passo sarà, ma lo farò a telecamere spente, di riorganizzare l'inventario, cioè è già un casino, craftare, vendere, magari comprare, quindi inizieremo il prossimo episodio già, diciamo, lingue profumati. Ecco, quindi ci vediamo alla prossima da GDR Land è tutto, e appunto, alla prossima. Ciao!